Qui ci spostiamo sull'altro registro che dicevo essere importante, il registro dei conflitti, proprio legato in questo caso a Andrea Doria. Andrea Doria è il personaggio che come sapete ha avuto un'importanza enorme non solo nella storia di Genova evidentemente, ma era proprio uno dei protagonisti sullo scacchiere europeo, infatti quando passa nel 1528 al servizio di Carlo V, veramente ha un inquieto enorme perché il rapporto delle forze in campo tra Spagna e Francia cambia sul mare in maniera seguita.